Benvenuti amici, un saluto per i tuoi altri 1990 del P, siamo qui con un nuovo video oggi vi mostro come creare Sami Khedira che in tanti me l'avete chiesto con la nuova capigliatura eccolo qui, Sami Khedira allora, il nome Sami, il cognome è Khedira, Khedira Khedira, Germania Juventus è un mediano, quindi centrocapista difensivo, ma è a 6, piede destro, è nato il 4 aprile del 1987 questo è quanto riguarda le info di Sami Khedira con i capelli corti allora, altezza 189, 93 kg, normale e devo dire che comunque mi sembra venuto abbastanza bene poi lascerò le interpretazioni a tutti voi, però insomma contando quello che ci lascia FIFA direi che vada più che bene insomma, mi sembra veramente molto simile a Sami Khedira allora, carnagione la seconda capelli, stile lunghezza, andiamo medi andiamo a prendere frangetta laterale scomposta poi prendiamo colore dei capelli, nero assolutamente stile barba, andiamo a prendere barba completa colore barba, nero sopracciglia, poi la sopracciglia è alta e normale forma sopracciglia, giù, allargate, spesse occhi, taglio degli occhi, su e grandi dettaglio occhi 1, distesa e normale dettaglio occhi 2, aperta e larga colore occhi marrone orecchie, posizione orecchio in dentro tipo di orecchio, lobo, sì naso, posizione naso basso, stretto e leggermente basso tipo di naso ricurvo a destra profilo naso curvo e grande narici alte e allargate guance, posizione zigomi piatti tipo di guance piene bocca, posizione bocca giù e in fuori labbra spesso e spesso stile labbra su mascella bassa e stretta e definita mento lungo e in fuori questo ragazzi per quanto riguarda le info l'aspetto di semi che dire per quanto riguarda gli accessori io ho messo le scarpe Nike per cui comunque portate Nike il resto come volete voi passiamo alle categorie attacco, cross, 62 ah vi ripeto questi dati sono presi dall'applicazione SoFIFA che potete trovare tutti nel browser di internet e quindi poi dopo ognuno scarica insomma o se li inventa oppure come ho fatto io in questo caso qui di solito le metto io questa volta ho preso i valori da internet cross, 72 finalizzazione, 70 testa, 76 passaggio corno, 85 tiro al volo, 76 piede debole, 4 difesa, marcatura, 76 contrasto in piede, 86 scivolata, 78 abilità, dribbling, 78 effetto, 70 punizione, 70 passaggio lungo, 81 controllo pallo, 81 potenza, potenza tiro, 84 elevazione, 70 resistenza, 80 forza, 91 tiro della distanza, 80 movimento cerrazione, 65 scatto, 70 agilità, 60 reattività, 90 ed equilibrio, 60 mentalità graficità, 85 bilità tattica, 87 posizionata con 80 visione, 84 rigori, 70 fine portiere lasciate come vi pare a voi quindi ragazzi il video termina qua questo video per quanto riguarda semi che dire della Juventus vi porterò prossimamente altri giocatori insomma, Higuaín stesso che dire quindi poi arriverà anche Celanoglu che qualcuno di voi mi ha chiesto perché non lo trovavo su FIFA arriveranno altri giocatori della Superliga cinese altri giocatori della primavera e ovviamente tutto ciò per diciamo coprire questo mese che ci separa da FIFA 18 ragazzi il video termina qui lasciate un bel like commentate e condividete iscrivetevi continuate a chiedermi i giocatori io ho una lista veramente piena e prima o poi vi porterò ve li porterò tutti grazie ragazzi alla prossima Anderberto Matri 1909 Delpi qui con me Sami Khedira Grazie a tutti